Lavorandoi alla riscossa! La parola al compagno Amar Bagdash, segretario del Partito Comunista dell'Italia, e al compagno un saluto grande al compagno Bastana Salera, il movimento della liberazione del popolo palestinese che oggi sta a durare l'intervento del Partito Comunista. La parola al compagno Amar Bagdash, segretario del Partito Comunista del Partito Comunista. La parola al compagno Amar Bagdash, segretario del Partito Comunista. La parola al compagno Amar Bagdash, segretario del Partito Comunista, segretario del Partito Comunista. La parola al compagno Amar Bagdash, segretario del Partito Comunista, segretario del Partito Comunista. Sì, le lotte di oggi, oltre al contenuto di classe, il conuto della liberazione dei lavoratori dalla scabitù capitalistica hanno un contenuto umano più che male. Se con una piccola modifica alla massima della militante comunista l'eroe veruina Rosa Luxemburgo, pronunciata all'inizio del ventesimo secolo, socialismo o barbaria, l'equatazione di oggi, del ventesimo secolo, posto del ventesimo secolo, può diventare socialismo o fine dell'essere umano. La parola al compagno Amar Bagdash, segretario del Partito Comunista. Sono detto che questo congresso ha riguadagnato il glorioso nome, va a dire, Partito Comunista Italiano. Il partito di Antonio Franci, di Palmiero Togliate e Luigi Longo, che erano nella vanguardia di una costellazione di militanti rivoluzionari, che con i loro enormi sacrifici hanno scritto le pagine più belle nella storia contemporanea della loro gloriosa patria nel sigillo d'oro del movimento comunista rivoluzionario internazionale. Grazie. 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 sia in certe condizioni, c'è un bilancio all'interno delle classi, c'è un certo equilibrio politico sia a livello nazionale che internazionale e può essere fatto quello che Togliatti definiva il compromesso storico con la borghesia e attraverso questa equazione lottare per migliorare le condizioni di lavoratore ma dall'altra parte tuttavia non si può fare alcun compromesso di questo tipo con le forze revisioniste o è opportuniste o convivere con loro nello stesso partito perché tale comportamento è dannoso per la natura rivoluzionaria della classe sociale del partito quindi io l'onoro mi danno all'interesse di lavoratore e alla lotta per il trionfo dell'ideale e dei valori socialisti Grazie 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 Si sono versati contro il mio paese, essendolo il principale ostacolo alla realizzazione e attuazione dei piani aggressivi e espansionistici nella regione, di cui il più grave è il piano del nuovo grande Medio Oriente, che il nostro partito ha definito di subito, con precisione, come il progetto del grande Xiomi. La Siria ha sostenuto e sostiene con fermezza i legittimi diritti del popolo arabo-palestinese e soprattutto sul diritto al ritorno al territorio nazionale e l'autodeterminazione per la costituzione di uno Stato nazionale appena sovranitato. La Siria ha sostenuto e con tutte le sue forze la resistenza patriotica libanese, che ha afferrato colpe dolorose all'aggressore sionista liberando tutto il territorio nazionale libanese dalla sporcizia di un'occupazione sionista senza offrire alcuna concessione all'aggressore e senza alcun compromesso. La Siria ha sostenuto la resistenza irachina contro l'aggressione degli Stati Uniti, questa resistenza che ha avuto delle vittorie contro gli aggressori imperialisti. Così ha infitto la prima importante sconfitta militare dell'aggressore americano nel XX secolo, la seconda del suo genere, dopo la sconfitta della guerra di Vietnam. Di tutto questo viene l'odio imperialista all'Asia. Grazie a tutti. Quando i nemici della Siria sono stati sconfitti e incapaci a far cadere lo Stato nazionale antiimperialista, hanno operato e operano ancora per il ruboramento della Siria, al fine di dividerla iniziando con delle aree di influenza per raggiungere la vera divisione. Attualmente in questa direzione si concentrano gli sforzi dell'imperialismo e dei suoi l'aggressione della zona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il compito principale di fronte a tutti i patriottici siriani è quello di difendere l'indipendenza nazionale e l'unità del territorio siriano e mantenere la piena soccanità nazionale. I comunisti siriani stanno combattendo spalla a spalla con tutti i patriottici in Siria per questi nobili obiettivi nazionali. I comunisti siriani detengono il compito essenziale è la difesa della produzione nazionale e dei diritti dei lavoratori e soddisfare i loro bisogni. Sono coloro che costruiscono il pilastro fondamentale della fermezza nazionale e dell'orgoglio siriano. Questo è il compito permanente di una classe sociale ma nell'attuale circunstituzione e anche un compito nazionale dell'imperialismo. I comunisti siriani detengono l'chatismali telling istituzione e dell'impena soccan rejected their ownは, I don't know about it, ed I think I don't know what I cannot see if they are doing. I think I'm running on stage, e doing a great job by theإme, I think I'm planning on stage, And the 51 per le loro posizioni di sostegno costante alla giusta lotta condotta dalla Siria contro l'aggressione imperialista. Viva il Partito Comunista Italiano che alza con fermezza la bandiera rossa, la bandiera dell'emancipazione dei lavoratori dalla schiavitù del capitale. Viva l'amicizia tra il Partito Comunista Italiano e il Partito Comunista Siriano, due partiti rivoluzionari, fermi nella lotta contro l'imperialismo per la vittoria del socialismo. Viva il comunismo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.